TECCRAFT Molto meno di prima Io mi ricordo che non faceva camminare Poi Ringrazio l'utente Che mi ha ricordato questo Questa magia Questa Come Come Allora Sì Questo Questa magia What the fuck Ah ok Cisel Ed eccola qui Ragazzi Questa È il macchinario Il marchingegno infernale Di cui vi parlavo La Cisel Quello che ci permetterà di fare Dei materiali strafighissimi Quindi Questo non ci serve a fare Ancora per niente Credo che troverò Un'utilità Molto più avanti Ma adesso Non ci pensiamo ancora Allora Vi annuncio che è da una vita Che non ci gioco Quindi non mi ricordo Praticamente niente Non mi ricordo Neanche se ho tanto cibo Quindi non so neanche se lo sto sprecando Questo Ehm No Direi proprio di no Allora Mangia Dormiamo Perché I mostracciatole ci fanno paura E oggi Ho intenzione Di finire la casa Cioè Non di finire Magari di andare avanti Non pretendiamo troppo Ehm Allora Inizierei proprio Da quello che stavamo facendo Cioè Se non ricordo mai Stavamo facendo L'estetica esterna Questa roba qui E stavo cercando Un pavimento Forse Ehm Non mi ricordo In ogni caso Con la chisel Stavamo facendo qualcosa Di questo Di questo Ne sono certo Qua Illuminiamo Che non si sa mai Ok Allora Vediamo un pochino Con la chisel E con questi blocchi Cosa si può fare Vabbè Quel ridstone No Non sono compatibili Non sono compatibili Porco zonzolo Però questo si Cobblestone Vabbè Vabbè Ci sono blocchi Abbastanza interessanti Con la cobblestone Tipo Sono curioso Di vedere questo Tanto poi si Per chi non lo sapesse Si può ritrasformare Molto facilmente E' figo Cioè E' speciale E' strano La cosa bella E' che è gratis Nel senso Non si paga nessun impegno Poi se la vogliamo Opla Diventa cobblestone normale Allora Vediamo un pochino I blocchi Che ci riserva Il futuro Questo è molto figo Allora Visto che dobbiamo Fare il pavimento Ci conviene stare qua fuori E testarli sul posto No Ma facciamo così Come Porca puttana Troia Ma dai Se ricominciamo così Però Ok Grazie Grazie tante Bastardo Ehm Terra Non ho intenzione Di coprire Cioè Veramente Tutta questa roba Quindi Facciamo Come si suol dire La La copertura Fake Allora Dirt 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 Questo è Cobblestone Ah Abbiamo molta cobblestone Interessante Non abbiamo Dirt Non abbiamo Della fottutissima Dirt Oh my god Devo ricominciare A prendere L'abitudine A Posizionare L'edit Modata Wозд Visto che Da una vita Che non gioca Degli fps Dei giochi Del genere Wow 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 Perché c'è Questa stone In vista Ah Query stone Ci potrebbe servire Perché Anche se non è Utilisabile Con la chisel Con la mod Della chisel Come si chiama Ah chisel Anche se non è utilizzabile Con questa mod È abbastanza interessante Allora Direi di togliere Questa merda Ok Ah non ho capito Perché Questa la voglio vedere Ah ecco Voglio vedere Se c'è Nei crafting Ma perché Quando ho cercato Chisel Non l'ho trovata Io qua Non la vedo Sinceramente Boh Vabbè Forse è un Bug Della Della roba Della cosa Della Cosare le cose Capite Ora non so perché Sto andando Ah si già Si vabbè La mia memoria La mia memoria Naturalmente Come al solito Mi aiuta tantissimo Sono venuto qua Prendo un po' di dirt Per coprire Quel buchetto Infernale Che si è venuto a creare Grazie all'esplosione Di un bastardissimo Creeper Allora Dobbiamo scegliere i blocchi Adesso ne posizionerò Un paio Li guarderò Poi voi mi dite Cosa ne pensate E se lasciarli oppure no Diciamo che deciderete voi Credo che non mi bastino questi blocchi E infatti Non ci bastano E vabbè Ci penseremo un'altra volta Ora A me questi blocchi Sinceramente Non mi dispiacciono Ecco Perché sono fighi Si uniscono Capito E questo che mi piace Di questi blocchi Sono così sexy E vabbè Vediamo un pochino Allora Ok Forse fanno un po' cagare Però Però sono fighi Si potrebbe pensare A fare qualcosa No Allora Vediamo un pochino Olè Allora Fatemi vedere Un pochetto Cosa si può fare Questo check point Questo Waypoint Qua in mezzo alle palle È un po' da spostare Come si suol dire Vabbè Lo vedremo più avanti Ehm Ma Ma Storto E vabbè Ehm Io direi Direi che ci può stare Devo soltanto trovare Un pochino Un disegnino carino E se invece facessi proprio Un disegno Cioè Del tipo Un disegno Ma mi serve dirt È inutile che ci giri intorno Mi serve dirt di merda Ehm Quest'oggi Vorrei anche fare a tempo Dove sto andando Vorrei anche fare a tempo Non solo a finire La parte esterna della casa Ma anche la parte interna Cioè magari finire No è ovvio Perché è un lavoro abbastanza lungo Però dico Ehm Almeno andare Portare avanti il lavoro Insomma Visto che siamo molto indietro Cioè Abbiamo già fatto Abbastanza puntate Non molte Ma abbastanza E ancora non abbiamo fatto la casa Quando di solito È la prima cosa che faccio Ho anche notato Che non lagga il server Ok dovrei stare esito Perché magari mi porto Glielo da solo Però Guardate È così È così fluido È così soffice Olè Mamma mia Vabbè già ci siamo Prendiamo anche legno Anche se ne abbiamo in sufficienza Perché Se vi ricordate A questo dato A Tricapitator Che boom Ci ha ammazzato L'albero in un colpo È troppo bella Questa mod Lamo Lamo alla follia It's follia Oh sì Dirt Quanto mi sei mancata Voi non ci crederete Ma Quando non si gioca Per molto tempo A Minecraft Vi manca il gioco Cioè nel senso Quando vi cominciate a giocare Diventa un'emozione È per questo Che io avevo abbandonato La serie Techcraft Per un bel po' di mesi Per innamorarmi Nece Mece Oh Sì Mi dicono che l'italiano È il mio forte Insomma Io avevo lasciato Techcraft Per Per sentire il desiderio In mani di giocarci No vabbè Anche per quello Ma poi anche per altri Altri motivi Che vi ho già elencato E che non so cui elencarvi Per la millesimissima volta Ma vabbè Allora Visto che aveva 5 pezzi Facciamo anche questo Dai 1, 2, 3 E 4 1, 2, 3 4, 5 E 6 Cosa ho alla gola oggi? Proprio oggi che sto registrando Techcraft Dopo mille anni Di attesa Olè Allora Vediamo un pochino Cosa si può fare Vabbè qua riempiamo Sicuro Cioè non proprio sicuro Al 100% Perché stavo pensando Di fare una cagatina Una mezza cagata Però Ho deciso di no Ehm Non mi Non mi ispira Non mi ispira Non so come dirvelo Cioè non so come dirlo Però non mi ispira E se invece facessi solo La passerella Sì lo so che probabilmente È quello che avevo detto Prima di Prima della pausa Prima della pausa pasquale Tra virgolette Anche se in realtà La pasqua non c'entra niente C'entra più la iella Sicuramente avrò detto Farò la passerella Me lo ricorderò E invece non mi ricordo niente Perché devo avere qualche tipo di Non lo so Un malattia strana Non ho una memoria di niente Vabbè Quello è un altro discorso Io dicevo Una passerella del tipo così E poi magari qualcosina Vediamo un pochino Che materiale Anzi no Vediamo un pochino Se ci sono delle cose Ehm Fighe Allora le fence Che fence ci sono What is this Ah Non si possono craftare Bene Allora queste qua Di colori diversi Tra virgolette Si fanno Come Come merda Si fanno Non me lo dice Non me lo dice Colorandole Con il colorante Ah ah Con gli stick Di bloodwood What Ah Quegli alberi rossi Rossi Ma io odio quel legno Ho per caso Ucciso un albero Di quel colore La risposta è Nothing And nothing Quindi 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 Quindici No Diciannove Ok basta Ehm Beh Allora Stavo il mio Il mio pensiero Era questo qui Allora Però però Aspettate Mi manca qualcosa Il mio segno distintivo No Ok Non c'è problema Ah no Niente Niente Eccole qua Io non posso Merda Sono idiota E ne sono cosciente Non posso camminare Senza Aver preso Il torcio In mano Detto così Poi Eh Allora La mia idea Era quella Di fare La solita Passeggiatina La solita Come si dice Passerella Con le fence Nei lati Ma A quanto pare Non mi vuole bene Il fato Perché non c'è Nessuna cosa speciale Ah anche qui E il pavimento interno Vabbè E se pensassimo adesso Ad allargare un po' la casa Che ne dite Ah Magari facciamo un timelapse Perché È ovvio che non mi vorrete Di certo vedere A scavare questa merda Dai facciamo un timelapse Ehm Quindi vi dico A frappè Grazie 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 Voglio farci Una gigantesca S Oppure una S E poi il 98 sotto E che ne dite Io adesso Provo a farlo In questa puntata Ma non sono certo Ehm Non sono sicuro Se Non sono sicuro Se ci riuscirò A farlo in tempo Naturalmente Allora Vediamo un pochino Ehm Prima di tutto Dobbiamo organizzarci Con le misure Io parlavo Di una S Gigante E di un 98 E se facessimo Una S Grande Ma proprio grande Cioè Non grande Ah 2 4 6 8 10 Perfetto Quindi 1 2 3 4 5 6 7 No 6 5 Ehm Ah Così Così Ehm Forse è troppo Si esce gigante No vabbè Non è detto Vediamo un po' Allora Vediamo un pochino L'idea è questa No Veramente è proprio tutto Dove di rimanere Sai com'è la vita Eh La vita è questa L'idea è questa Allora S è grande Molto Grande Naturalmente questa roba che c'è in mezzo alle palle Poi la toglierò e la metterò in ordine Contro un muro Detto così lo so È molto strano Ah questa S che sta centrata E poi un 98 che sta un po' decentrato Tipo Che ne so Qua Più piccola naturalmente Perché Perché si Ok Naturalmente va riempito con quei blocchi Di cui vi ho parlato prima 9 Che sta Un blocco Sotto E un blocco di sporgenza Poi l'8 Come lo faccio l'8 Eh merda Per l'8 non ci sta però Ah si che ci sta Scusami No Non ci sta Si ci sta Certo che ci sta Ma che cavolo Ole Allora Si lo so È una cosa abbastanza semplice Però Boh ci stava Lo volevo fare E lo faccio E appena Arriveremo a un certo livello Vi farò vedere come questo disegno Diventerà molto più figo Vi do un indizio Diventerà molto più luminoso Vi ho già detto tutto Praticamente Dai però ci sta molto eh Un bel disegnino Ci sta bene Nel mio pavimento di fiducia Oh cazzo Ole Ce l'ho fatta No Fuck you Fuck you Fuck you Pensavo di doverci mettere di più Pensavo fosse una cosa più difficile Invece è una cazzata assurda Ci ho messo veramente poco Devo dire la verità Allora Mettiamo questi qua Ci prendiamo questi A proposito Quelli colorati Non me li ha fatti cambiare Brutto bastardo Che non sei altro Così 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 Ma Fuck you And Ole Vediamo un pochino Tan 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 Se l'ha fatta apposta questa stanza C'è sempre un margine di uno Dappertutto Il che mi piace Perché è tutto simmetrico Alla perfezione E Con questo Io direi di salutarvi Anzi Facciamo così Faccio un'ultima cosa Cioè Volevo fare un altro piano Però io avevo parlato Volevo fare una casa Diciamo rustica Cosa intendo per rustica io Io per rustica intendo una casa Non troppo perfetta Cioè non quadrata Squadrata come questa stanza Questa stanza è l'ingresso Questa stanza è l'ingresso diciamo La stanza principale Comunque ci sta Ma io volevo fare una Una casa Rustica Cioè in mezzo alle montagne Ho scelto proprio di farla In mezzo alla montagna Per quel motivo là Cioè La voglio estendere Come si facevano un tempo Le case in minecraft Porca puttana Vieni qua Vieni 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 qua Amore Vieni qua C'è il biscottino Vieni qua Vieni qua Ciao Non esplodere Non esplodere Ok bravo bambino Dicevo Estendere dentro la montagna In modo tale da rispettare la montagna E non cambiarla esteriormente Perché io ho fatto delle prove in creative Ho provato con un query in creative Ad allargare la casa Cioè a farla gigantesca Ma a un certo punto Cioè gigantesca Di una dimensione abbastanza abbordabile Scusate ma mi si è spento lo schermo Ok Del server E avevo paura che andassi in stand by Ma a un certo punto sbordava qui Cioè tipo Non mi ricordo dove Comunque Ne usciva la casa dalla montagna Tipo qui E questo che merda è Non fa un cazzo Ok Ah forse è quella roba che toglie il mana Il mana sarà per la magia Per adesso è ancora presto Per parlarne Siccome Ok Non sono sicuro di averlo già ucciso Facciamo così Lo uccido in precedenza Lo uccido prima Così poi non mi rompo le palle Allora L'unica pecca L'unica cosa che mi fa Veramente rodere il culo Di questa casa È il fatto che Mentre in altre case Una volta che la costruisci è fatta In questa casa devi fare il soffitto Le pareti di nuovo da capo Che poi in realtà è la stessa cosa Perché In realtà anche l'area Devi fare Soprattutto che qua Devi anche scavare Prima di farle E questo è un grandissimo Consumo di Come si dice Di materie prime Cioè per i picconi E roba del genere Però secondo me Ne vale la pena Perché poi per esempio Io qua stavo pensando Prima di fare un gradino E un'altra stanza gigante Oppure Sì vabbè Una cosa figa Insomma tipo un gradino O due gradini E poi una porta gigantesca Che porta Oltre l'infinito E No Cavolo com'era Sopra l'infinito E oltre Una cosa del genere Ma fa il culo Mi sono dimenticato E poi qua Voglio fare qualche modifica Per renderla più fluorescente Za 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 Va bene Io sono Spiegarantotto Se il video vi è piaciuto Oddio santo Ti prego non farlo È il mio timer Oddio La sfonderia dell'LG Life is good Va bene Io sono Spiegarantotto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Iscrivetevi Condividete Mi trovate sempre su Twitter Google Plus O sul mio sito Spiegarantotto.x10.mx O su Facebook Digitando Facebook.com Slash Spiegarantotto Io sono Spiegarantotto Ciao a tutti Ci vediamo nel prossimo episodio Di Techcraft Oppure nel prossimo video Qui sul mio canale Ciao Ah scusate Il sito è Spiegarantotto.ml Porca di quella puttanella Ciao